Buona vista ragazzi e bentornati in questa nuova Top & Flop, la serie che vi sta piacendo davvero molto sulle Top e anche le Flop di Pokémon Sole e Luna Quindi oggi torniamo ancora una volta a parlare di Sole e Luna E dopo aver fatto tutte le Top possibili, immaginabili, Top & Flop delle forme Alola, Top 10 dei Pokémon di settima generazione, Flop 5 dei Pokémon di settima generazione Vi lascio comunque come al solito tutto qui in scheda dove potete andare a cliccare e andare a vedere Oggi andremo a fare una nuova Top & Flop riguardanti le Ultra Creature Quindi ragazzi questa novità tutta di settima generazione che non potevo includere nelle solite classifiche ma farne una totalmente a parte Perché queste Ultra Creature sono veramente fantastiche e molto molto diverse rispetto ai Pokémon normali Innanzitutto senza spoilerare troppo anche perché neanche io lo so, fanno parte di degli eventi ben precisi del gioco Quindi non li troviamo così in giro ma penso proprio che li troveremo singolarmente una volta per ogni Ultra Creatura Poi ci sono sempre come vi ho fatto vedere anche nel video delle differenze tra Sole e Luna, le esclusive di Sole e le esclusive di Luna Noi le andremo a prendere tutte quante e faremo una Top & Flop, la mia personalissima classifica appunto delle Ultra Creature I soliti disclaimer prima di iniziare come ho detto un istante fa la classifica è personalissima quindi io attendo le vostre Top & Flop riguardanti le Ultra Creature qua sotto nei commenti Inoltre dato che alcune di queste Ultra Creature ancora non sono state ufficialmente rivelate o comunque ancora magari non ci siete arrivati nel gioco Questo video potrebbe contenere degli spoiler quindi vi consiglio di stare parecchio attenti se non volete rovinate a qualche sorpresa Anche se io in realtà considererò solamente l'aspetto esteriore del Pokémon o dell'Ultra Creatura Perché non conosco bene le loro caratteristiche, so che hanno una determinata abilità ma non parleremo per non spoilerare nulla E parleremo al massimo solamente del tipo che ha quell'Ultra Creatura Quindi credo di aver detto tutto come al solito, i soliti disclaimer che faccio all'inizio perché voglio mettere le mani avanti e dire Ragazzi mi raccomando se non volete spoiler questa qui è personale, voglio i vostri commenti eccetera Possiamo iniziare E dato che anche in questo caso l'importante non è solamente la top ma anche la flop Direi di partire dal centro e visto che le Ultra Creature sono in totale 8 Comprese quelle che hanno lo stesso nome tra virgolette però in versioni differenti Le ho considerate come se fossero effettivamente lo sono due Ultra Creature completamente diverse Direi di iniziare dalla quinta posizione occupata da Cartana Cartana è questa simpatica bestiolina che vedete qui E devo dire che come Ultra Creature è stata intanto rivelata quasi alla fine Quindi diciamo che non è da molto che l'ho vista E non mi dispiace, è un'Ultra Creatura che mi piace anche se la troviamo in quinta posizione Questo vuol dire che le altre sono ancora più belle, ce ne sono anche più brutte Però vuol dire che se questa mi piace e siamo in quinta posizione Figuratevi quanto è stato difficile salire di posizioni Il tipo di questa Ultra Creatura è il doppio tipo erba-acciaio Quindi già mi sto immaginando che se dovessi sfidarla devo prepararmi un Pokémon di tipo fuoco Perché queste Ultra Creature se non ho capito male hanno delle statistiche molto elevate È un'abilità molto particolare che metterà in difficoltà tantissimi giocatori compreso me Ma focalizzandoci sull'aspetto esteriore Questa Ultra Creatura praticamente sembra al mio avviso una stella Praticamente è una specie di stella Infatti non so il motivo per cui è di tipo erba-acciaio Magari lo scopriremo dopo Dopo l'acciaio lo posso anche capire l'erba in realtà non riesco a capire chi se l'è fumata Prima di decidere che questa Ultra Creatura fosse tipo erba appunto Salendo di una posizione andiamo nella posizione numero 4 Dove troviamo Niligo Che poi ho detto anche Nilego Ancora non so ufficialmente qual è il nome proprio quello vero e proprio Ovvero l'Ultra Creatura 01 Quest'Ultra Creatura ha il doppio tipo roccia veleno Quindi molto molto interessante E la conosciamo abbastanza bene perché l'abbiamo sempre messa a paragone con Lilia Ha un aspetto molto simile a questa sua forma a questa specie di Medusa E il fatto che appunto sia molto simile a un personaggio che conosciamo bene La fa salire parecchio di posizioni Perché altrimenti una Medusa Perché sembra veramente solamente una Medusa Non sarebbe riuscita ad arrivare in quarta posizione Per tutto quello che abbiamo già detto negli scorsi video Ecco che guadagna la quarta posizione E in sesta posizione troviamo Feromosa Che è l'Ultra Creatura numero 2 esclusiva di Pokémon Luna L'Ultra Creatura numero 2 che in realtà ha come nome Beauty Anche se io di Beauty non ci trovo praticamente niente Come ho già detto anche in qualche altro video Questa Ultra Creatura appunto dovrebbe affascinare, ammaliare e far innamorare i suoi avversari con i suoi Ferormoni Solamente con quello ci riesci Perché altrimenti non ci riesci completamente Perché senza Ferormoni che su di me non hanno effetto Non hai nessun fascino a mio avviso È di tipo Coleottero Lotta Sarà sicuramente molto interessante Anche lei perché ha un legame molto importante con un personaggio Anch'essa importante nella storia Questo lo dico sempre perché Sin da prima dell'uscita dei giochi abbiamo detto che Avrebbe avuto un legame con qualche personaggio Tranquilli non mi sono spoilerato niente E non vi sto spoilerando niente di sicuro e di certo Dovrebbe averlo E quindi poteva anche guadagnare qualche posizione Però no, è brutta Quindi l'ho relegata comunque in sesta posizione Perché rimane brutta anche se ha questo legame Anche se hai Ferormoni e tutto quello che vuoi Rimani in sesta posizione E passiamo alla terza posizione Ovvero medaglia di bronzo per Necrozma Ragazzi questa è l'ultracreatura Che io mi sarei immaginato proprio dal nome Ultracreatura Una creatura probabilmente aliena Non ne ho idea Che arriva nella terra per invaderla Per fare quello che vuoi Poi lo scopriremo Però devi avere un aspetto così proprio Bello potente Beh di tipo psico Anche se da vederlo non sembra Me lo sarei aspettato più di tipo buio Però mi sta bene così Oltre allo psico Dovrebbe avere anche abbastanza forza Perché si vede che è bello Massiccio e potente Certo Magari in palestra Oltre a farti i bicipiti Le spalle I pettorali Fai anche un po' di gambe Perché mi sembri un pochettino Un po' stretto lì sotto Necrozma è una di quelle ultracreature Che come avete potuto ben capire Sin da subito Mi ha affascinato Mi piace Mi piace davvero tanto E guadagna questa terza posizione Subito Proprio direttamente È una delle ultime che sono state rivelate Grazie o per colpa dei leak Quindi è anche questa Una di quelle che ho visto Diciamo da poco Però da subito Come vi sto dicendo Io ho detto Quando dovevo stilare questa classifica Ho detto no Allora Necrozma Deve essere almeno tra i primi tre Vedremo quali ci saranno tra i primi due Però prima passiamo alla settima posizione Dove troviamo un'ultracreatura Che in realtà Devo dire Che mi piace Cioè sono stato troppo cattivo A lasciarla qua sotto Però proprio per lo stesso motivo Per cui ho messo Necrozma In terza posizione Questa ultracreatura Scende fino alla settima posizione Sto parlando di Xurkitre Xurkitri Non lo so Ha un nome anche un pochettino strano È un'ultracreatura Di tipo Elettro Che vi sto facendo vedere In questo momento Che vi ripeto In realtà un po' mi piace Però Non incutete errore Se tu la vedi Anzi ci vuoi diventare amico Vuoi farti le passeggiate Con Xurkitri Proprio Tra una centrale elettrica E l'altra Sarebbe interessante Ok Mentre registravo Mi sono spoilerato Le sue statistiche E ha un attacco speciale Che io dico Oh mio dio Questo qui Shotta qualsiasi cosa Con un colpo solo Veramente un attacco speciale Incredibile Ragazzi Quindi state molto 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 attenti Perché sarà veramente fortissima Però Resta in settima posizione Perché io Non ho considerato Le statistiche Non ho considerato Il typing E tutto il resto Ma solamente l'aspetto fisico In questo caso L'aspetto fisico Mi piace pure Però Non mi sa proprio Di ultra creatura Ecco Ci può anche stare Ma non incute Quel terrore Che dovrebbe E passiamo quindi Alla seconda posizione Medaglia d'argento Per Buzzwall Che è l'ultra creatura Numero 2 Expansio Comunque quella Bella pompata Rossa Che è un coleotterolotta Anche lui Dico lui Perché l'altra Mi sembra una lei Quindi questo è lui E lei è lei Capito Questa è la creatura Ultra creatura Esclusiva Dato che l'allenamento Mi sa che lei Lo sta facendo Un pochettino In maniera sbadata Però mi sa che ci siamo Dai La parte di sopra ci siamo Inoltre Buzz Vuole una di quelle Che conosciamo meglio Perché sono state annunciate Dall'inizio O quasi E abbiamo anche visto Proprio in quel pezzo Di video Quando scendono Sulla terra E quindi io mi immagino L'epicità Quando loro Quando si avvierà L'evento E sarà bellissimo Sarà bellissimo Ma il contrario di bellissimo Cos'è? È il bruttissimo Ragazzi E quindi andiamo In ottava posizione Ovvero L'ultima posizione Di questa top and flop L'ultra creatura Che non mi è piaciuta O che mi è piaciuta Di meno Rispetto a tutte quante le altre È Celestila Celestila È un'ultra creatura Che è stata annunciata Proprio da pochissimo O meglio È stata liccata Insomma Vabbè Avete capito Ormai non si è capito E dovrebbe essere esclusiva Di Pokémon Luna È di tipo acciaio volante Ragazzi Voi la vedete Dite acciaio volante Perché? Spero di capirlo Ragazzi Ma perché acciaio volante? Io acciaio volante Penso a Schermori Ad esempio Ma perché questa cosa Che sembra Una campana Con due braccia Di fuori Sembra un boss Di Kingdom Hearts Questo Cioè Non ha senso Secondo me Non mi piace Non mi piace Eppure Avevi anche un colore carino Il verde Un verde acqua Che mi poteva ispirare Però Intanto Non hai nessuna espressione Perché non hai nessun viso La sto vedendo in questo momento Anch'io Non hai nessun viso Né niente Non hai Hai le braccia Che se ne vanno Dove vogliono E poi Sei una campana Una specie di cono Messo al coso Non ti capisco Spero che mi piacerai Di più Durante il gioco Però Ho un brutto presentimento Eh ragazzi Siamo arrivati in prima posizione Ne manca solamente una Quindi Chi le conosce Tutte quante Ha già capito Qual è la mia preferenza In assoluto Di tutte quante Le altre creature Molto probabilmente Prevedibile Molto probabilmente Anche voi Condividerete con me Anzi Fatemelo sapere qua sotto Sicuramente Farete un sacco di classifiche Anche voi In prima posizione Troviamo Goodslord L'ultra creatura Che veramente Io la vedo e dico Vabbè Questa qui è veramente Un portento È fenomenale Sembra enorme Innanzitutto Sembra davvero enorme Spero che siete Quel boss finale Perché Sembra enorme Incute un timore Pazzesco Ha Una bocca Enorme Dalla bocca Escono delle braccia Con altre due bocche Cioè ragazzi Questa qui Ti mangia o da qua O da qua O dalla bocca Vera Quindi è veramente enorme Assomiglia leggermente Un po' al baobau Di Nightmare Before Christmas È di tipo Drago buio Quindi ragazzi Un typing molto molto interessante E molto cattivo Questa ultracreatura Sarà sicuramente Una macchina da guerra E non sarà facile Buttarla giù In gioco Quindi ragazzi State parecchio attenti Quando la vedete Insomma Lo vedremo Poi tutti quanti Insieme Però Cioè A vederla Io già ho paura Di utilizzare i miei pokemon Cioè Ve l'immaginate Un pokemon normalissimo Vai Eevee Vai Contro Goodslord Ma quello se lo pappa In un attimo In definitiva Quindi abbiamo In prima posizione Godslord In seconda posizione Budswall Che sono uno scioglilingua Da dire così Velocemente insieme E in terza posizione Necrozma E infatti Mi ero anche dimenticato Hanno tutti quanti Queste Z E queste lettere particolari Però Devo dire Una cosa Molto importante Che tutte quante Le ultracreature In realtà Sono fatte molto bene C'è chi più e chi meno Ovviamente Però Questo nuovo esperimento Di pokemon Di introdurre in pokemon Delle creature Aliene Anche se non so Se saranno aliene Ancora lo scopriremo È vero Però già Ultracreature Sono robe diverse Dei pokemon normali Devo dire che Come aspetto Sono sicuramente Ben fatte Quindi a differenza Di come si poteva dire Per XY Ad esempio Eh le mega evoluzioni Pokemon sta diventando Digimon Adesso sono arrivate Anche le ultracreature Invece in questo caso Io guardo con positività No in realtà Anche le mega evoluzioni Le guardavo in maniera positiva Soprattutto quando hanno annunciato Mega Charizard Però vabbè Guardo in maniera positiva Queste ultracreature Anche perché Arricchiranno Senz'altro Tutta la trama Di pokemon Sole e luna Come ho detto più volte In questo video Le ultracreature Mi dovevano ispirare Quel terrore Di una creatura aliena Che scende E cerca di invadere Eccetera Infatti ci sono riusciti Infatti ho noto Una certa somiglianza Con i titani di Hercules Non so se li conoscete Eh ragazzi L'Olimpo sarebbe per di là Ok ragazzi Dovete ammettere Che alcuni di loro Sono identici Cambia qualche colore Però secondo me Si sono ispirati Abbastanza a loro Quindi ragazzi Come al solito Questo video è finito Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel pollicino in su Mi raccomando Lasciate qua sotto Nei commenti La vostra top and flop Della Delle ultracreature E anche un bel commento Qua sotto Anche insieme Alla top and flop Per farmi sapere la vostra Per darmi qualche consiglio Se volete Anche qualche altra top O qualche altra flop Ovviamente riguardo Pokémon Sole e Luna Perché sono i giochi del momento Io voglio parlare solamente di questi Noi ci vediamo con un prossimo video Mi raccomando Non mancate Non perdetemi La serie Proprio a questi giochi Di ultima generazione Perché altrimenti Vengo lì E ve meno Alla prossima Ciao ragazzi Ciao ragazzi